Al via il cantiere di restauro del Torrione, ma non solo il monumento dell'infrastruttura idraulica usata all'epoca per portare l'acqua in città, ma anche una riqualificazione dell'area circostante. Non solo, si andranno a fare lavori anche a Piazza Regina Margherita e a Largo Tunisia, finanziati interamente dalla Fondazione Carispac. Con la firma del contratto di affidamento dei lavori, si dà il via al cantiere del Torrione, una sinergia tra Fondazione, Ance Comune e Sovrintendenza, oltre a molte associazioni. L'intervento del Torrione costa 183 mila euro. La progettazione è curata da Ance. Sarà però la Fondazione a gestire direttamente la realizzazione dell'intervento. Io penso che con questo intervento la Fondazione sta dando un segno importante della presenza nella città. Lo dà anche perché è sollecitata dalle associazioni, perché noi oltre a questo impegno nella città abbiamo la vicinanza molto forte alle associazioni, che sono attente anche alla ripartenza e la ripartenza per loro significa quanto più possibile riattivare il centro storico. Mi sembra che ci abbiamo messo le mani e ce la stiamo facendo. Molto soddisfatta la sovrintendente Alessandra Vittorini, soprattutto per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita. Assieme a Largo Tunisia per questi lavori si prevede uno stanziamento di ulteriori 170 mila euro. Già ci sono i progetti. Per Piazza Regina Margherita si prevede la riqualificazione della piazza, ridefinendo gli spazi e gli arredi, con l'obiettivo di restituire visibilità e valore alla fontana. Piazza Regina Margherita, interamente circondata da beni culturali, da edifici vincolati, aveva questo lato della fontana del Nettuno, che ovviamente non essendo abitazione non era coperto da finanziamenti. Abbiamo cominciato a lavorare lo scorso anno per predisporre un progetto, confidando che con il progetto pronto ci sarebbe stato un impegno di qualche sostenitore. Siamo veramente contenti, ma grati fortemente alla fondazione che ha raccolto questa opportunità e che insieme al percorso più ampio della piazza e anche del centro storico sosterrà questo, che sarà il primo spazio urbano interamente recuperato sicuramente. Grazie a tutti.